Inizia il nuovo anno, c'è qualche problema per gli asili nido dell'intera regione, soprattutto per quanto riguarda la capacità delle famiglie di chiedere il rimborso. Perché? Perché per quest'anno la regione Abruzzo, che doveva cofinanziare l'importo che annualmente impiega, l'ha fatto con dei fondi comunitari e questo impone per un regolamento europeo l'impossibilità del doppio finanziamento, per cui tutte le famiglie che hanno avuto accesso al bonus asili nido dell'Inps, non possono utilizzare questi fondi della regione. Tant'è vero che i 24 ambiti sociali sono in estrema difficoltà a spendere queste somme. Non sono arrivate le domande. C'è stata una proroga fino al 31 ottobre, ma sicuramente questo non favorirà certo il cambio di passo. E quindi oggi noi abbiamo scritto una lettera al Presidente Marsiglio e all'assessore Sant'Angelo di verificare la situazione, di fare in modo che vengano apportati dei correttivi che consentono agli ambiti sociali di spendere questi fondi. Di che importi parliamo? Parliamo di oltre 3 milioni di euro, ma parliamo soprattutto di fondi molto importanti perché appunto riguardano i nidi. Anche il PD Cittadino denuncia una serie di criticità sulle scuole pescaresi. Sì, intanto ci sono più di 120 bambini ancora in lista d'attesa nei 7 nidi comunali, eppure il Comune si appresta a ridare più di 250 mila euro che servono proprio per ridurre le liste d'attesa. E questa è una beffaicamente per tanti genitori. In più, dei 4 nuovi nidi che in teoria dovrebbero essere aperti entro l'anno, secondo quanto detto dalla Giunta Masci, ci vorranno in bilancio circa 1.200.000 euro perché ogni nido costa al Comune, anche se dato all'esterno, circa 300.000 euro, che è una cifra molto importante che oggi in bilancio non c'è. Quindi in realtà non sappiamo quando e se i nidi apriano, ma l'importante è che non restino ovviamente questi cattedali nel deserto. In più, c'è il tema che ieri è emerso quasi a sorpresa in Commissione di Controllo e Garanzia, e cioè che di oltre 50 plessi scolastici del Comune di Pesca, più di 30, sono senza autoclave. E sappiamo che una scuola non può restare aperta senza autoclave se non c'è l'acqua. Quindi vuol dire che nonostante da tre anni ci sia una crisi idrica, nessuno ha fatto nulla nelle scuole pescaresi per dare l'autoclave, e il rischio è che oggi, se ci dovesse essere una crisi idrica, alcune di queste scuole potrebbero anche chiudere. Parliamo dei nidi comunali, delle scuole di infanzia, delle scuole materne, delle scuole elementari. È un problema molto molto grave che va affrontato, perché altrimenti rischiamo davvero di non garantire neppure la continuità dell'anno scolastico.